Buongiorno, ben trovati lunedì 10 aprile 2017. Nuovo appuntamento, il primo della settimana con Mattino 6, la nostra consuetta rassegna stampa che come sempre apriamo con le prime pagine dei nostri quotidiani. Oggi si ricorda Sante Zecchiele, profeta della Chiesa. Apriamo con le prime quattro pagine del quotidiano Il Centro, partiamo come sempre dall'edizione di Pescara per vedere quali sono i titoli più importanti degli argomenti poi trattati all'interno del giornale. Si parla della stazione di Pescara, la stazione ferroviaria che diventa più sicura, 4 milioni di lavori per nuove scale mobili e 170 telecamere, lavori che sono iniziati già da qualche giorno. Poi vedete la fotonotizia a centropagina del Vivi Città, la festa dello sport successo a Pescara, migliaia di atleti invadono le strade della città. Ieri la 34esima edizione, a tal proposito vi ricordo che mercoledì sera alle 21 ci sarà in onda proprio sulla nostra rete uno speciale di un'ora proprio su questa manifestazione organizzata dalla WISP Abruzzo Molise. Le altre notizie, tassa su rifiuti, ultimo giorno per l'Atari, poi via alle sanzioni. Poi lo sport arriva alla Juventus, sabato prossimo a Pescara alle 15, vigilia di Pasqua. Dalle 12 di oggi 10 mila biglietti in vendita, sarà davvero calcia al tagliando. In molti già da questa notte hanno preso d'assalto le rivendite della nostra regione. In basso si parla di Vinitali, Abruzzo protagonista, cresce il pecorino Pasetti premiato con il Can Grande. Poi al porto turistico, ieri fedeltà al lavoro, 38 premiati a Pescara dalla Camera di Commercio. Vediamo anche qualche titolo di cronaca nazionale. In alto, attentati in due chiese, decine di morti in Egitto. E poi Corea sale la tensione, si muove la flotta degli Stati Uniti. E poi di spalla a Ferrara, caccia aperta al killer di Budrio. Andiamo avanti, prima pagina del centro, edizione di Chieti. Grave Carletti, simbolo dei ciclisti, spuntone di guard raid, gli perfora il polmone e ricoverato in rianimazione. Poi la via Crucis dei lavoratori Chieti in 2000, sfilano pregando anche per le vittime di Rigopiano. Vasto, banda di tir, fallisce il maxifurto. Lanciano, Staniscia, Lascia, in pensione dopo 18.000 interventi del chirurgo lancianese. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Agricoltura, 100 milioni per i danni. In arrivo nuove stalle, case e contributi per i capi di bestiame morti. E poi lo sport, in questo caso per quanto riguarda la foto della prima pagina del centro. Il Teramo resta a mani vuote. Biancorossi sfortunati. La Reggiana vince nel finale per 1-0 al Bonolis. Poi taglia il trasporto pubblico, ricorso contro la Regione. Annereto investito mentre fa jogging e in rianimazione. Andiamo ancora avanti. Siamo alla prima pagina, in questo caso, dell'Aquila del centro. Doppio lavoro, Tancredi licenziato. L'Aquila, la decisione della ASL e l'ex assessore denuncia Tordera. E poi primarie, oltre 6.000 votanti. L'Aquila, grande successo di affluenza. E oggi si replica fino alle 20. Avezzano, bus guasto, niente gita per 100 alunni. A Celano, i ladri tornano nella casa del sindaco. E poi in basso, Sulmona, scuola chiusa, esposto in procura. Dei professori, siamo alla prima pagina del messaggero dell'inserto Abruzzo. Ovviamente critica il Papa, fedele in rivolta. Montesilvano, giovane viceparroco contro Bergoglio. Durante l'omelia ha fatto soltanto del male. La gente grida, vergogna e molti abbandonano la chiesa. Interviene il vescovo. E poi primarie all'Aquila fa discutere l'altissima affluenza. E poi brucchi al TAR contro il taglio dei bus. In basso la cronaca. Ciclista grave in ospedale dopo un incidente. Abbiamo visto anche dalle pagine del centro. Poi di spalla questo articolo. Anziana pranza con Berlusconi e Don Allabruzzo. 70 mila euro. In alto ci sono le notizie che riguardano lo sport della nostra regione. Lega però il Teramo stecca in casa e la salvezza diretta si complica. Poi il MotoGP, la Suzuki di Iannone, tamponata da Lorenzo nel Gran Premio di ieri. E poi Pescara quanti rimpianti. Ora bisogna costruire il futuro. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi che troverete oggi in edicola. Possiamo andare a vedere in questo caso, faremo tra qualche istante i titoli, come sempre, dei quotidiani nazionali che ovviamente trattano tematiche di politica nazionale, internazionale e di cronaca. Partiamo dal Corriere della Sera. Vediamo il titolo principale che riguarda quello che è accaduto ieri in Egitto. Una domenica di sangue, due kamikaze contro i copti, decine di vittime. Il Vaticano ovviamente preoccupato per quanto è accaduto. Il Papa non si ferma perché il Pontefice nelle prossime settimane sarà proprio in visita in Egitto. E poi Stoccolma, il lutto e la riflessione di uno scrittore dopo l'attentato dei giorni scorsi nel paese scandinavo. Siamo a Repubblica, strage di cristiani in Egitto, 45 morti. Il Papa conferma il viaggio, come vi dicevo, tra i copti. Poi Movimento 5 Stelle dispalla questo articolo. La rete del partito piglia tutto. Il messaggero l'Isis fa strage nelle chiese Egitto, domenica delle palme di sangue. Kamikaze si fanno esplodere, 47 cristiani, copti morti. E poi slitta la manovra, governo a caccia di 800 milioni, questo per quanto riguarda la politica economica. E poi la foto a centropagina sul calcio. La Roma non molla, la Juve 3 a 0 a Bologna. Il Fatto Quotidiano, salvi l'unità e avrai appaltieni. Renzi dichiara guerra a Report, gli affari di Pessina, mentre comprava il giornale. Questo è il titolo principale sul Fatto Quotidiano. Libero, guerra di religione contro i cristiani. La domenica delle salme, il titolo del quotidiano milanese che parla ovviamente degli attentati compiuti ieri contro i cristiani in Egitto. E poi vedete a centropagina c'è questo ritratto di Pietro, questa intervista all'ex esponente dell'Italia dei Valori. Non sono cambiato contro il crimine, la mia ricetta resta più carcere e mano pesante. Siamo alla stampa di Torino, sangue sulla domenica delle palme, Egitto bombe in due chiese, 47 morti. L'Isis rivendica tra 20 giorni il viaggio del Papa. E poi vedete, la porta aerei contro Kim, la porta aerei americana, si avvicina nel tratto di mare internazionale, però proprio di fronte la Corea. Dunque, dopo l'attacco alla Siria, Trump minaccia anche ritorsioni contro il paese asiatico. Il tempo di Roma, la domenica delle salme, lo stesso titolo di libero. Attacco dell'Isis in Egitto, kamikaze si fanno esplodere in due chiese copte. strage di cristiani. Poi, sul quotidiano romano, ovviamente, si parla in chiave, capitolina di calcio. Gioia e dolori, la gioia dei tifosi romanisti per la vittoria di Bologna, il dolore dei tifosi laziali per la sconfitta interna con il Napoli. Stesso risultato a rovescio, la Roma passa a Bologna per 3 a 0, la Lazio è fermata per 0 a 3 in casa dal Napoli. E' proprio il mattino di Napoli, in alto, ovviamente incensa il successo dei campani. Caion e Insigne, due corsari a Roma. Il Napoli sconfigge la Lazio e brinda la Champion. E poi, a centro pagina, strage di cristiani. Allarme per il Papa. La Gazzetta del Mezzogiorno. Isis, il martirio dei cristiani. Domenica delle palme di sangue in Egitto. Almeno 45 vittime. Secolo XIX, il quotidiano di Genova. Egitto, bombe Isis in due chiese. Blitz kamikaze, sangue sulla Domenica delle palme. 47 morti e emergenza. E poi, un titolo che riguarda la Serie A, il calcio. In questo caso, sul secolo XIX, il Genoa. Perché i rosso-blu affondano, salta Mandorlini. Ritorna Juric. Dunque, ennesimo cambio di panchina in Serie A. L'ex tecnico del Verona, Mandorlini, almeno secondo quanto riferisce queste mattine al secolo XIX. E ai saluti, ritorna sulla panchina della formazione rosso-blu Juric. Che era stato esonerato qualche settimana fa. Anzi, per meglio dire, era stato esonerato dopo la sconfitta del Genoa a Pescara per 5-0. Ricorderete quel risultato clamoroso maturato allo stadio Adriatico. Sole 24 ore, fisco, parte la caccia agli sconti. Negli ultimi 5 anni, istituiti corretti o prorogati. Due bonus ogni mese. Lasciamo la rassegna stampa nazionale, almeno per quello che concerne la cronaca. Ma a proposito di quotidiani nazionali, possiamo andare a vedere, visto che è lunedì. Grande spazio allo sport, un po' su tutti i quotidiani. Andiamo a vedere i titoli dei tre quotidiani sportivi. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Euro Milan, Euro Inter. Si parla ovviamente della domenica delle milanesi. Con il Milan che batte per 4-0 a San Siro il Palermo. e sorpassa l'Inter, battuta clamorosamente a Crotone dalla formazione calabrese che torna più che mai in corsa per la salvezza diretta. Tre punti di distacco tra Lempoli, che aveva pareggiato con il Pescara nell'anticipo di sabato al Carlo Castellani, e la formazione di Nicola che si è portata a meno 3. Corriere dello Sport, Fenomeno Napoli, Dominio Azzurro, Cajon apre poi doppietta dell'Ala Campana, in questo caso di Insigne, Napoli che passa a Roma. In alto la Formula 1, Vettel fa sul serio, Vale va fortissimo, seconda la Ferrari, secondo Valentino Rossi, nel GP di motociclismo. E poi, tornando al calcio, l'Inter va a picco che bufera su Pioli, in basso Juve 6 da triplete, eliminiamo il Barça perché in questa settimana ci sarà anche la sfida di andata tra Bianconeri e Barcellona a proposito della Juventus. Ricordiamolo, abbiamo visto prima anche dall'articolo del centro sull'inizio della vendita dei biglietti di Pescara Juventus di sabato, che appunto sabato, vigilia di Pasqua, all'Adriatico, ci sarà la squadra di Massimiliano Allegri. Chiudiamo con i quotidiani sportivi nazionali, con Tutto Sport, che ovviamente punta come sempre l'attenzione sulle due squadre di Torino, Belotti, che bello il Toro del Gallo, Torino vittorioso, e Di Bala, caro Leo, stavolta vinco io l'intervista esclusiva all'argentino che parla di Leo, suo connazionale, Leo Messi, del Barcellona. Lasciamo anche i titoli dei quotidiani nazionali sportivi oggi in edicola, possiamo ripartire dal centro per andare a vedere all'interno del giornale quali sono le pagine che ci interessano maggiormente, ovviamente in chiave locale. Ed apriamo parlando del Vinitaly, che è in corso di svolgimento a Verona, una manifestazione che vede 90 espositori abruzzesi nella più importante kermesse del vino, non solo nazionale, ma probabilmente di tutto il vecchio continente. Ecco qui, Vinitaly 2017, dal salone La Sfida ai Mercati, apre la fiera internazionale al taglio del nastro, anche il maggiore importatore cinese. Poi in basso, Valori, Vignaiolo e Filosofo, Assumma con i vini bio, e poi si parla dei migliori vini come il Masciarelli e il Binomio, tra i migliori produttori. Nell'altra pagina, gli abruzzesi a Verona, Coccciola, Cerasuolo e Merlò, Maelle e Pecorino, il più gettonato fra i vini abruzzesi. In basso, Domenico Pasetti, si aggiudica la medaglia di Can Grande. Poi la regione al top su 5 Star Wines, la guida della rassegna, l'Abruzzo domina nelle etichette senza solfiti aggiunti. Andiamo avanti, lasciando le pagine di cronaca nazionale che abbiamo visto dai titoli dei quotidiani nazionali. Oggi ne dico, a proposito del Vinitaly, poi vi proporremo anche dei servizi nel corso dei nostri Tg con Stefano Recanati, inviato proprio con Gaetano Tereo nella Kermess Veronese. Ripartiamo da Pescara, in questo caso, con le cronache della nostra regione e delle nostre province. In questo caso, le opere delle ferrovie, il titolo principale nell'edizione di Pescara del Centro, stazione più sicura, lavori per 4 milioni, già al via vedete dalle foto la stazione trasformata con tanti lavori all'interno. Il progetto, leggiamo sotto, prevede la realizzazione di nuovi ascensori, scale mobili e un sistema di videosorveglianza con 170 telecamere, occhi elettronici collegati alla Polfer, che è il punto della Polizia Ferroviaria, in questo caso all'interno della stazione. E poi, cambiando pagina, si parla di tasse, perché oggi è l'ultimo giorno per il pagamento dell'Atari per i cittadini pescaresi. Da domani, chi pagherà in ritardo, dovrà pagare anche delle sanzioni. Fedeltà al lavoro, premiati anche due luminari, cerimonie al Marina di Pescara con la Camera di Commercio, con i 40 dipendenti che si sono distinti nel 2016, riconoscimenti anche al professor Mastro Pasqua e al dottor Paloscia per i risultati nel campo medico, in questo caso nel campo della medicina e della cardiologia per Paloscia e per Mastro Pasqua, per quanto riguarda le novità che ci sono state nel campo della vista, perché Mastro Pasqua è uno dei luminari in campo internazionale. Andiamo in basso per parlare invece di Vivi Città. In piazza la sfida dei baby atleti, rinnovato il successo di Vivi Città, tante le famiglie presenti alla manifestazione. Poi nella pagina dello Sport, sempre dal centro, vedremo altri articoli che riguardano il Vivi Città che si è tenuto ieri in 50 città italiane, fra cui Pescara, e poi Tour dei Ponti in centro alla passeggiata in bici, ma è polemica sulla sicurezza. Andiamo avanti, addio a Berardinelli, l'eroe che sparò a balbo e morto a 97 anni, il marinaglio pescarese che era sull'incrociatore San Giorgio quando fu colpito l'aereo del Gerarca, alle 16 i funerali nella chiesa dello Spirito Santo. E poi Montesilvano, strada bloccata da un cancello, Aliano si rivolge alla Procura. E poi mille firme per abbattere il Sirena, tanti cittadini favorevoli a una riqualificazione della piazza. E poi la cronaca sulla circonvaliazione ieri sera tra Pescara e Pescara Colli, scontro fra tre auto, feriti e lievi i conducenti delle vetture. Siamo alla pagina di Chieti, del centro ricoverato a Chieti dopo l'incidente grave. Carletti, un simbolo del ciclismo teatino, cade nel corso di una gara, uno spuntone del guardrail perfora i polmoni. L'atleta 65enne è in rianimazione. E poi a proposito di incidenti, frontale di Torrevecchia, è stato operato all'ottantenne, è rimasto ferito sabato scorso, e poi si schianta a terra in motocicletta, a 100 metri da casa. È accaduto a Bucchianico, ad un 49enne, che fortunatamente non è in gravi condizioni. E poi in basso a Lanciano, va in pensione il chirurgo dei record Lanciano, il professor Staniscia, lascia l'ospedale Renzetti, dopo 40 anni di attività, e pensate, 18 mila interventi. Siamo alla pagina dell'Aquila, doppio lavoro, Tancredi licenziato in tronco dalla Asla Aquilana, l'ex assessore e dipendente dell'azienda sanitaria, avrebbe svolto una seconda attività, senza autorizzazione. E poi la difesa, Dionisio dice, è solo una decisione politica. Cambiando argomento, la cronaca torna all'allarme furti nella Marsica, ce l'hanno i ladri di nuovo a casa del sindaco Settimio Santilli. In basso si parla del CAI, perché Falcone resta alla guida del comitato abruzzese, l'Aquilano è il suo secondo mandato, gli iscritti sono aumentati, grande vitalità dell'associazione. Proseguiamo, siamo alla pagina di Teramo del centro, terremoto e maltempo, danni all'agricoltura, 100 milioni di aiuti, parla l'assessore regionale alle politiche agricole Pepe, che dice, in arrivo nuove stalle, case e contributi per ogni capo. E poi, la lettera alle famiglie, per Pasqua, comprate, agnelli, abruzzesi, gli allevamenti nel Teramano sono morti, proprio in occasione dell'ondata di maltempo dello scorso gennaio, 130 mila animali. In basso, la cronaca, Nereto investito da un'auto, mentre fa jogging, Nereto il podista, è ricoverato in rianimazione all'ospedale Mazzini di Teramo, in serata scontro, poi fra due auto a Montorio al Vomano. Spostandoci a Martinsicuro, cocaina in casa, è stato arrestato, un albanese. Siamo arrivati alle pagine della cultura e dello sport e dunque possiamo passare al quotidiano Il Messaggero. Vi ricordo che oggi, lunedì, non è in edicola Il Quotidiano La Città, che ovviamente ritroveremo nel corso della nostra rassegna stampa già dalla giornata di domani. Allora, dopo aver visto le pagine abruzzesi del Quotidiano Il Centro, siamo all'inserto Abruzzo del Messaggero. Ripartiamo da Pescara, dove troviamo questa notizia che arriva da Montesilvano. Prete critica il Papa, i fedeli in rivolta, gridano vergogna. Caos durante la messa delle palme a Montesilvano, molti abbandonano la chiesa. Atteso l'intervento del Vescovo il Prete in questione Don Edward Pasparai. Francesco ha fatto soltanto del male e la frase che potrebbe costare, leggiamo dal Messaggero il trasferimento al Sacerdote. E poi, Camera di Commercio di Pescara, fedeltà al lavoro, 40 i premiati, e poi perdite idriche e asfalto, lavori in via Colli, innamorati. Andiamo in basso per trovare anche sul Messaggero l'articolo che riguarda l'importante manifestazione di ieri che si è tenuta a Pescara, Vivi Città in 1500 alla partenza una festa dello sport con la Wisp a Bruzzo Molise. Ve lo ricordo ancora una volta mercoledì sera alle 21 sulla nostra rete ci sarà uno speciale di un'ora proprio sull'edizione di ieri del Vivi Città organizzato dalla Wisp a Bruzzo Molise del presidente regionale Alberto Caruli. Siamo alla pagina dell'Aquila del Messaggero primarie boom di votanti. Cadrà il record del 2007 al termine della prima giornata le urne sono andati 6.668 cittadini ben oltre l'obiettivo prefissato dei 5.000 e c'è chi grida all'inciucio ne seggi anche noti esponenti scrive il messaggero dello schieramento opposto. Centrodestra documento a favore della candidatura di Bergamotto invece per quanto riguarda la vicenda della scuola Cotugno il Cotugno diventa appunto un caso nazionale per quanto riguarda le scuole sicure in basso estorsione siamo alla cronaca chiesto il processo per Bizzarri andiamo avanti la pagina del Messaggero di Avezzano Sulmona Università la sede nel Parco Exarsa il progetto dell'attesissima nuova collocazione svelato da un intervento del segretario dei Democrat Giovanni Ceglie il summit riservato si è svolto in comune con due dirigenti dell'attuale amministrazione si partirebbe già da ottobre e poi Club Alpino Assemblea regionale a Carsoli sono state rese note le nuove cariche a Luco dei Marsi coniugi morti carbonizzati questa mattina si terranno le esequie dei due anziani morti nel rogo di Luco spostandoci in Valle Peligna sul Mona rifiuti porta a porta a giugno partirà il servizio in tutta la città sono cominciati i primi due incontri formativi nelle frazioni di Cavate e Torrone e altri ne seguiranno è sempre a Sul Mona ieri una festa per il primo raduno delle Ferrari siamo alla pagina di Chieti del messaggero via Crucis dei lavoratori 2000 persone in corteo l'appuntamento delle acri provinciali ha ricordato anche la tragedia di Rigopiano l'arcivescovo di Chieti vasto Monsignor Forte dice serenità alle famiglie anche attraverso la sicurezza sul lavoro la cronaca schianto durante la gara ciclista in rianimazione al villaggio del Mediterraneo finisce contro il guardrail si perfora il torace Lanciano bacino imbrifero montano verso l'accordo con l'Acea in basso le 15 spiagge più belle d'Italia c'è anche quella di Motta Grossa di Vasto e poi altre due notizie per quanto riguarda in breve Chieti Maggio Teatino al via le proposte per l'edizione del 2017 poi in Frentanio uffici poste italiane attivati altri wifi siamo la pagina di Teramo del messaggero parliamo di trasporti Italia Bus il comune presenta il ricorso al Tar nel mirino il provvedimento emanato dall'esecutivo regionale parla il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che dice se diminuiscono il contributo non possiamo farcela e poi Giulianova Scotto Melilla e Mastromauro all'assemblea di articolo 1 aderiscono Crescentini e Andrenacci primo incontro sull'ospedale con il parlamentare abruzzese Ginobble e ancora Giulianova quartiere su sicurezza e truffe raccolta firme per le scuole Nereto investito mentre fa jogging è grave un 48enne in basso a Pineto alla farmacia comunale tanti servizi per i cittadini raggiunti i 116 mila euro di utili e adesso anche spirometrie ecodoppler e ultrasonografie per la farmacia pinetese la farmacia comunale di Pineto anche in questo caso siamo così giunti allo sport che ovviamente affronteremo in maniera dettagliata nella seconda parte vi proporremo i servizi per quanto riguarda le gare di ieri in Lega Pro con il Teramo battuto per 1 a 0 nel finale in casa dalla Reggiana vi proporremo i servizi relativi al campionato di Serie D con le partite che si sono disputate ieri avevano giocato invece sabato per quanto riguarda sempre il calcio il Pescara fermato sul pareggio per 1 a 1 a Empoli avevano giocato anche l'Aquila fermata anche in questo caso sul pari però in casa dal Muravera sconfitta in Terra Sarda invece per l'Avezzano la Nusei servizi che ovviamente vi avevamo proposto anche nella giornata di ieri e negli approfondimenti del sabato nel corso di Diretta Stadio possiamo dunque fermarci per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 interamente dedicata allo sport seconda parte di Mattino 6 di lunedì 10 aprile 2017 siamo dunque allo sport abbiamo esaurito le notizie per quanto riguarda le cronache nazionali della nostra regione dunque possiamo parlare di sport di calcio partendo dal centro Pescara Zeman meglio di Oddo retrocessione dei Biancazzurri ad un passo ma la media punti del Boemo è superiore a quella del predecessore ovvero Massimo Oddo e a proposito di Pescara vediamo la doppia pagina che il centro dedica alla formazione Biancazzurra progressi con Zeman ma salvarsi è un'utopia a questo punto anche alla luce della vittoria del Crotone con l'Inter più che un'utopia è praticamente a questo punto impossibile il rendimento del tecnico Boemo superiore a quello di Oddo vediamo in questo specchietto i due tecnici a confronto con Oddo che ha totalizzato 9 punti Zeman 5 ma Oddo ha fatto 9 punti in 24 partite Zeman 5 in 7 con Oddo che ha raccolto una vittoria ma a tavolino ricorderete lo 0-3 per la gara di Sassuolo una vittoria invece sul campo per Zeman 6 pareggi per Oddo 2 per Zeman 17 sconfitte per l'ex tecnico Biancazzurro 4 K.O. per l'attuale allenatore del Pescara 22 gol fatti dal Pescara di Oddo 8 da quello di Zeman ma ovviamente parliamo di una differenza di partite sostanziali 24 a 7 e poi i gol subiti 55 dal Pescara di Oddo 13 da quelli del Pescara di Zeman media gol fatti 0-91 per Oddo 1-14 per Zeman gol subiti 2-29 di media a partite per il Pescara di Oddo 1-85 per il Pescara di Zeman e poi il succo della notizia la media punti perché il Pescara di Oddo ha totalizzato una media punti di 0-37 a gara il Pescara di Zeman 0-71 quasi il doppio e la proiezione sulle 38 gare è per in pratica esattamente quasi il doppio 14-06 per Oddo 27-14 per Zeman ma da questa mattina alle 12 partirà la caccia al biglietto per la gara con la Juventus al via la prevendita sabato tutto esaurito all'Adriatico Bovo e Bonucci sono squalificati Bovo nel Pescara Bonucci nella Juventus vediamo anche altre notizie per quanto riguarda il Pescara c'è quest'altro specchietto che interessa la media voti dei giocatori biancazzurri vediamo solo il miglior biancazzurro in questa stagione almeno per quanto riguarda la media voto è Vincenzo Fiorillo che però ha giocato solo due partite ma ha totalizzato un 6,5 tante insufficienze ovviamente per una squadra che è ultima in classifica tra le quattro sufficienze c'è anche Gilardino che ha giocato una sola gara anzi per meglio dire 70 minuti nel match del San Paolo di Napoli 6 per Cullibali 6,07 per Baybec che si è però nuovamente infortunato anche ad Empoli lasciamo il discorso Pescara anzi no perché c'è un'ultima notizia che riguarda i biancazzurri convocati dell'Italia di Ventura Biraghi si Caprari stavolta non c'è il raduno dei calciatori emergenti da parte di Ventura siamo alla doppia pagina che riguarda il calcio di Serie A il Napoli blinda il terzo posto il Milan batte 4-0 il Palermo Campani che invece sono passati per 3-0 a Roma Inter inguardabile crisi il Crotone rivede la salvezza 2-1 per la formazione pitagorica la Roma va a segno tre volte a Bologna 3-0 la Sampdoria scappa due volte ma Babacar salva e viola all'ottantanovesimo 2-2 il finale e poi la vittoria vedete in basso del Torino a Cagliari al Sant'Elia per 3-2 infine il 3-0 dell'Udinese sul Genoa Mandorlini dice non molleremo ma abbiamo visto nella prima parte di mattino 6 dalla pagina del secolo XIX il quotidiano di Genoa che Mandorlini è stato praticamente esonerato evidentemente nella tarda serata nella nottata quando ancora non andava in stampa il secolo XIX al suo posto è tornato Iuric e siamo al Teramo però prima di parlare del Teramo parliamo un attimo ancora del Pescara perché è vero che sabato si giocherà la sfida con la Juventus noi però vogliamo analizzare il momento dei Biancazzuri proprio la vigilia della gara con la vecchia signora lo facciamo andando ad ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato proprio al Castellani di Empoli sabato scorso al 91esimo della gara con i Toscani intervista con il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo è un pareggio molto amaro perché abbiamo creato molto e oggi abbiamo veramente lottato su ogni pallone era una giornata molto calda era difficile tenere ritmi alti ma penso che ci siamo riusciti per una buona parte della partita e resta tanto dispiacere perché oggi volevamo i tre punti penso tutti i giorni a questa salvezza che diventa sempre più miracolosa io rispondo per me e ci penso tutti i giorni quindi non spero e credo che lo facciano tutti i miei compagni o perlomeno la maggior parte ecco abbiamo l'obbligo e soprattutto l'orgoglio che devo tirare fuori e devono venire fuori i valori delle persone degli uomini prima che dei calciatori adesso è mancato è mancato poco perché siamo stati non siamo stati pronti sul loro schema su rimessa laterale che è una cosa che non possiamo permetterci in questo momento di non essere reattivi su una rimessa laterale e loro si hanno colpito il palo ero sempre coperto in quelle punizioni avevano due grandi tiratori però abbiamo abbiamo reagito bene ecco oggi ci è mancata solo la mira io credo che la fortuna a volte vada dove bisogna un po' tirarsela bisogna un po' cercarsela ecco in questo momento altre volte non l'abbiamo meritata ma ultimamente meriteremo un pizzico di fortuna in più quest'anno non abbiamo fatto nulla o veramente poco per portare la gente dalla nostra parte quindi non abbiamo motivo di poter dire niente io sono qua ormai da tre anni quindi so quando le cose vanno in un certo modo che c'è un certo tipo di atteggiamento qual è la piazza adesso in questa situazione non possiamo chiedere niente a nessuno dobbiamo solo lavorare abbiamo ascoltato Fiorillo vediamo anche dalle pagine del messaggero come viene trattato l'argomento Pescara Pescara quanti rimpianti la rimonta del Crotone ha dimostrato ancora una volta che sarebbe bastato molto poco per riaprire la lotta salvezza ed è veramente così grande rammarico per il Pescara e poi scatta alle 12 la prevendita dei biglietti per la Juve e poi ancora l'appuntamento di oggi un convegno su sport salute e le lealtà che si terrà questa mattina alle 10.30 all'istituto Mecenate di Pescara in via del circuito a fare da moderatore sarà lo showman Pino Insegno diversi i relatori di altissimo profilo l'assistente internazionale Elenito di Liberatore ci sarà anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ci saranno anche ex giocatori come Morris Carrozzieri Gianluca Colonnello e poi il patron della GM Europa Vini squadra ciclistica Gabriele Marchesani ancora Pescara la società si prepara alla rivoluzione di luglio infine l'ultimo articolo scatta alle 12 come abbiamo visto la prevendita dei biglietti per la Juventus andiamo avanti capitolo Teramo passo falso indolore la Reggiana passa al Bonolis con un gol di Guidone i biancorossi apparsi giù di tono vediamo dunque cosa è accaduto ieri al Bonolis appunto nel servizio di Ania Cantagalli il cammino positivo del Teramo si ferma dopo 4 giornate e 3 vittorie con i biancorossi battuti dalla Reggiana grazie a un gol di Guidone è un KO però quasi indolore perché la zona salvezza diretta rimane a distanza ravvicinata Ugolotti conferma l'11 atteso con Baccolo alle spalle di Barbuti match winner di Ancona e l'ingresso di Scipioni in difesa che spinge Sales a spostarsi a sinistra Reggiana che invece deve rinunciare a 4 uomini e per questo Menichini cambia qualcosa con l'ex Narduzzo titolare tra i pali e l'altro ex Calvano che resterà in panchina è un primo tempo in cui la Reggiana spinge spesso e volentieri il Teramo a difendersi Marchi ci prova approfittando di un pallone che danza in aria ma Narciso è pronto a buttare la sfera in angolo l'unica vera occasione biancorossa della prima frazione arriva al dodicesimo quando Speranza calcia al volo di sinistro con palla che però termina alta due errori da parte biancorossa rischiano poi di fare le fortune granate il primo lo commette involontariamente Narciso che scivola in fase di rinvio e mette nelle condizioni spanò di tirare verso la porta per fortuna del Teramo debolmente l'altro errore lo commette in appoggio Baccolo con Marchi che ringrazia ma che calibra male verso Narciso Ugolotti cambia subito in avvio di ripresa chiamando fuori Baccolo e buttando nella mischia fratangelo proprio il giocatore molisano qualche minuto dopo tira di prima intenzione di sinistro sul primo palla ma Narduzzo è pronto a mettere in angolo poco dopo è di Paolo Antonio ad alzare lo sguardo mirare dalla distanza e sparare al lato della porta Granata la reggiana dal canto suo si devore un'occasione colossale con Ghiringhelli su azione di ripartenza portata avanti da Panizzi il giocatore Granata grazia di fatto i biancorossi mentre poco dopo Narciso dice no ad un colpo di testa ravvicinato di Cesareno il gol però è nell'aria e arriva per un infortunio tra lo stesso Narciso e Sales Cesareni mette in mezzo di esterno destro il portiere biancorosso para ma si scontra con il terzino la palla torna in gioco e trova pronto il sogno estivo biancorosso Guidone a portare in vantaggio la reggiana al 44esimo Caidi sul secondo palo indirizza in qualche modo di testa un calcio d'angolo battuto da Di Paolo Antonio ma Narduzzo para in qualche modo sarà di fatto l'ultima occasione per pareggiare per il teramo è uno stop forse utile per tornare con i piedi per terra dopo i 4 risultati utili consecutivi e concentrarsi in vista di sabato prossimo quando al Bonolis arriverà il Forlì in uno scontro diretto da non fallire vediamo anche le interviste del 91esimo negli articoli del messaggero sempre su teramo reggiana Caidi il difensore biancorosso dice oggi avevamo una marcia in meno Ugolotti il tecnico abbiamo pagato un po' di stanchezza dobbiamo sfruttare la prossima partita in casa con il Forlì sempre allo stadio Bonolis vediamo anche dal centro come viene commentata la sconfitta dei biancorossi scivolone del teramo Narciso sbaglia un'uscita e la reggiana ringrazia Caidi ci è mancato il ritmo che serviva per metterli sotto Ugolotti non abbattiamoci sotto con il Forlì e siamo alla pagina che riguarda la serie D restiamo ovviamente a parlare di calcio con il San Nicolò che spreca tutto a Dagnone in Molise gli ex bianco celesti impongono il pari alla formazione di Massimo Epifani Ragazzo e Margarita annullano i due gol Biancazzurri a Dagnone in alto il tecnico abruzzese dice nel primo tempo c'era un rigore per noi e vediamo dunque nel prossimo servizio cosa è accaduto al Civitelle di Agnone Settimo pareggio stagionale interno per l'Agnonese al Civitelle e settimo pari fuori dalle Muramiche per il San Nicolò nella domenica delle palme le due squadre decidono di non farsi male ma sul risultato pesa la rete di Margarita per i Granata a Molisani a meno di un quarto d'ora dal termine delle ostilità servito in profondità da Capitan Ricamato buca la porta di Ciotti ma la gioia del sorpasso viene strozzata in gola dalla terna diretta da Silidi Viterbo la giornata primaverile richiama un buon numero di spettatori sulle gradinate la partita è piacevole l'Olimpia crea il primo grattacapo alla difesa terramana da calcio d'angolo sulla mischia si salvano i biancazzurri di Epifani la manovra dei padroni di casa si fa preferire sul fianco destro Demoleone fermato in due tempi da Ciotti al minuto 15 con il consolidato 4-4-2 Margarita vertice basso del rombo di centrocampo la squadra di Del Grosso sembra prendere il sopravvento l'attento Epifani risponde sul campo con il 4-3-3 in mediana l'ex Pasquale di Lullo a tamponare le folate avversarie al diciassettesimo Chiacchiarelli mette la freccia sul binario destro Cassese interviene in anticipo ma in maniera scomposta in fila con il piede destro la sua porta San Nicolò inaspettatamente in vantaggio al Civitelle Lagnone accusa il colpo e si sbilancia in avanti la punta abruzzese Traini mette fuori di un niente una conclusione velenosa dalla distanza passano altri tre giri di lancette il ragazzo ristabilisce la parità servito da Margarita il centroavanti Sardo difende la sfera con il corpo aggira l'avversario diretto e scarica la palla lì dove Ciotti non può arrivare 1 a 1 al minuto numero 23 fino al termine della prima parte più nulla da segnalare se non un dribbling a dir poco rischioso in area di rigore del portiere di casa Campanico sull'astuto Traini la ripresa prende forma con gli stessi 22 in campo guida in contropiede non crede ai propri occhi la difesa bianca-azzurra si spalanca ma il piccolo attaccante non trova la porta colpevolmente tra il 9 e il decimo minuto l'agnonese non sfrutta una doppia occasione la prima firma di Ragazzu lanciato a rete fermato dalla sagoma di Ciotti la seconda sulla poderosa ma centrale sberla di Navarro da fuori area l'agnonese padrona del campo i granata alzano i ritmi come sempre accaduto nei secondi 45 minuti in questa stagione il San Nicolò è rintanato con ordine nella propria meta a campo ma per i molisani è fatale un'altra distrazione l'ottimo Massetti scodella con precisione da destra per la testa di De Carolis appostato sul secondo palo la palla scavalca campanico e si deposita nella rete il San Nicolò torna in vantaggio neanche 60 secondi dopo guida illumina la scena accoglie il palo interno guerra rimette a centro area il ragazzo infila nella porta sguarnita tutto da rifare pallone oltre la linea di fondo sul cross del terzino agnonese ancora guida tra i più ispirati dei suoi a metà ripresa si guadagna una punizione da ottima posizione è la zolla preferita da Margarita che meglio non potrebbe calciare sfera giro sul palo più lontano e il risultato torna in parità assalto finale dei padroni di casa Gragnoli prende il posto di Ragazzu e Nicola Guerra di Navarro Cain subentra De Carolis per gli ospiti finale concitato e senza un attimo di respiro Moretti apparecchia una mano sul volto di Walter Guerra e prende la via degli spogliatoi anzitempo lasciando i suoi in dieci per russo diretto ancora un minuto e sull'asse è ricamato Margarita la rete che vale tre punti per l'Olimpia per la terna arbitrale l'azione però viziata da fuorigioco dell'ex Biancazzurro sui titoli di coda un'occasione per parte il filtrante rasoterra di guerra non è raccolto da nessun giocatore con la casacca granata dinanzi alla porta di Ciotti e a tempo scaduto il giocatore di colore Cain sfugge alla retroguardia locale e per poco non castiga Ciotti Molisani salvati dalla traversa giovedì 13 si torna a correre per il turno infrasettimanale prepasquale giovedì dunque si tornerà in campo per il turno di campionato come diceva il collega nel servizio prepasquale noi però restiamo invece alle gare di ieri restiamo alle pagine del centro sulla serie D parliamo anche dell'Aquila che come vi dicevo aveva impattato sabato nell'anticipo casalingo con il Muravera Cialente il sindaco dell'Aquila incontra l'accordata di imprenditori interessati ad entrare nella società e chiama l'attuale presidente Chiodi grandi manovre per la successione dell'attuale dirigenza ormai in visa alla piazza Prisco chi si rivede la vastesi ora spera gol del bomber a Castelfidardo i playoff sono a meno due dunque vittoria anche se non con una prestazione brillante per i bianco-rossi in rete il bomber della formazione aragonese andiamo dunque a vedere il servizio realizzato da Andrea Costantini una brutta vastese centra comunque il massimo risultato e tiene in vita le speranze di agganciare il quinto posto e quindi i playoff un lampo nel deserto quello del re di vivo bomber Umberto Prisco vale i tre punti e pregiudica ancora di più la posizione di un Castelfidardo pieno di limiti ma colpito nel suo momento migliore clima primaverile in terra marchigiana il tecnico vastese Favo recupera ma manda in panchina Locca assenti Galizia squalificato è Romano infortunato la novità è Scutti Terzino con Mensà alzato in mediana il sacrificato è Di Pietro nel Castelfidardo fermati dal giudice sportivo Pigini e Soragna Galli al centro dell'attacco sostenuto dagli under albanesi e Montagnoli il primo tempo è contraddistinto da tanta noia a dispetto dell'importanza della posta in paglio per entrambe l'unico tiro in porta al diciannovesimo è Di Marconi Marconato c'è la soluzione migliore proposta della vastese è la sponda di Prisco per la conclusione di Fiore deviata in corner non sarebbe male neanche l'azione del quarantunesimo quando Fiore ricambia il favore ma Prisco è fermato per un dubbio offside all'intervallo lo 0-0 è l'unico risultato possibile nella ripresa ci si aspetta la vastese e invece vengono fuori i padroni di casa al settimo Montagnoli elude il fuorigioco della vastese fila verso l'area di rigore ma sul più bello spara alto la squadra del patron Bolami è lenta impacciata e senza idee massi al dodicesimo scalde i guantoni di Marco Nato allora Favua al tredicesimo inserisce Di Pietro per Scutti e riporta dietro Mensà un minuto dopo Felici sfonda a sinistra liscio di Orlando Molinari anticipa Fiore ma a metafrazione ancora il Castelfidardo ad avere una clamorosa palla goal Albanesi serve Galli che gira di prima intenzione ma Marco Nato salva il risultato la vastese sembra provata ma si affida ai suoi uomini migliori ventisettesimo Fiore sguscia e serve Prisco il cui sinistro è neutralizzato in corner da Molinari sul successivo calcio d'angolo di Felici Prisco in corna in torsione e sigla il gol partita è la rete numero 11 in campionato per il centroavanti che torna a essere decisivo nell'occasione l'estremo di casa colpisce il palo con la spalla resta a terra ma cerca di proseguire Manzo dopo un paio di minuti spedisce a lato poi Molinari richiama l'attenzione della panchina non ce la fa ecco i cambi esauriti e il difensore Marconi a doversi improvvisare portiere ma il finale non riserva più nulla il Castelfidardo vede avvicinarsi lo spettro della retrocessione la Vastese sfrutta il riposo della Samorese e si porta a meno 2 del quinto posto ma per centrare l'obiettivo bisognerà svoltare e cambiare atteggiamento lo riconosce in primis l'allenatore Massimiliano Favo e questo è il servizio di Andrea Costantini sulla vittoria esterna della formazione Bianco-Rossa in terra marchigiana perde ma festeggia ugualmente la salvezza invece il Pineto vedete l'articolo qui in basso della nostra Roberta Di Sante la capolista fermana ribalta il risultato Biancazzurri in festa con tre turni di anticipo e poi vediamo l'Avezzano che aveva perso sabato nell'anticipo in terra sarda con il Lanusei Avezzano tra sconfitte e veleni la stagione sta finendo male ricorderete lo sfogo del presidente Paris dopo il K.O. nel derby con l'Aquila presidente Paris che aveva esonerato il direttore sportivo De Angelis parliamo ancora di Serie D torniamo in questo ping pong che sempre facciamo il lunedì con le pagine sportive del centro e del messaggero vediamo come il messaggero parla delle formazioni abruzzesi Aquila ora pensare al futuro ci sono questi incontri in atto tra il sindaco Cialente e Le Cordate una in particolare interessata ad entrare in società e poi l'Avezzano spero che l'Avezzano trovi gente come noi mister Tortora prima del silenzio stampa imposto dopo il K.O. in Sardegna aveva detto abbiamo lavorato con tante difficoltà e poi ritroviamo gli articoli che riguardano le formazioni di serie D di cui abbiamo visto i servizi poc'anzi va stessa tre punti per sperare ancora San Nicolò in dieci si fa rimontare due volte andiamo ancora avanti siamo però al basket ma dobbiamo invece andare a vedere questo servizio il servizio relativo alla sconfitta interna del Pineto Pineto battuto dalla supercapolista Fermana nonostante il K.O. la formazione Bianca Azzurra ha festeggiato la permanenza in serie D con largo anticipo i dettagli nel servizio di Roberta Di Sante pur offrendo una prestazione da grande squadra non ce la fa il Pineto ad aver ragione della capolista Fermana i Biancazzurri pur mettendo sotto la formazione di Flavio Destro si fanno recuperare e poi sorpassare nel finale ma anche in virtù della sconfitta del Castelfilardo c'entrano la matematica salvezza con tre giornate di anticipo ma andiamo con ordine 4-1-4-1 per Amaulo che conferma per dieci undicesimi la formazione vittoriosa a Civitanova con la sola variante in avanti di Palumbo per Ganci che parte dalla panchina a McCord per l'ex di turno Mariani prelevato a dicembre proprio dalla Fermana Destro che deve rinunciare allo squalificato Senè e in extremis anche a Capitan Comotto risponde con un 4-3-3 inserendo al centro della difesa Manè in coppia conferrante mentre in avanti il trio d'attacco è composto da Petrucci Molinari e Margarita avvio bruciante dei locali neppure un giro di lancette e Palumbo da distanza ravvicinata impegna Valentini passa un minuto e sugli sviluppi della punizione di Proietti Cercelluti gira in porta ma l'estremo giallo-blu non si fa sorprendere i biancazzurri i biancazzurri locali sono più propositivi in avanti e al 19esimo sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Palumbo che sorbola di poco la traversa insiste il Pineto che al 26esimo in contropiede con Cercelluti chiama Valentini ad un'uscita disperata la Fermana si salva come può ma soffre in questo frangente della gara la pressione del Pineto che alla mezz'ora tenta la conclusione dal limite con Palumbo ma la sfera si impenna oltre la traversa break dei canarini di destro al 35esimo con Petrucci uno dei più attivi che mette in movimento d'Angelo ma la girata non crea problemi la partita è godibile le due squadre si fronteggiano a viso aperto in campo e anche sugli spalti è spettacolo che hanno i tantissimi tifosi gialloblu giunti al Mariani Pavone per sostenere la volata promozione dei canarini e proprio in extremis dopo un'ottima prima frazione giocata dai ragazzi di Amaolo il Pineto rischia di incassare la rete dell'1-0 Fermano quando Petrucci beffa Fiumara sulla destra e serve Mollinari sul filo del fuorigioco con il diagonale del centroavanti che sfiora il palo alla destra di Giacchetta brividi per il Pineto che però riesce a rientrare negli spogliatori sul parziale di 0-0 nel secondo tempo il late motive non cambia sono sempre i locali a fare la partita e dopo due minuti dalla ripresa dell'ostilità trovano il meritato vantaggio con Palumbo che finalizza di giustezza una bella azione corale dei ragazzi di Amaolo terzo gol in campionato per il centroavanti di Biancazzurro la reazione fermana però non si fa attendere e si sviluppa sull'asse Cremona Molinari con il centroavanti che piazza il diagonale ma viene fermato in posizione di offside dal direttore di gara Maninetti risponde colpo su colpo il Pineto al diciassettesimo corner di Proietti e testa di Palumbo questa volta solo l'esterno della rete per lui al ventiseiesimo gran discesa di Cercelluti sulla destra che entra in area vince un rimpallo e mette in mezzo per Ganci ma un ottimo manè chiude in anticipo sul centroavanti pinetese alla mezz'ora prova anche Mariani ma la conclusione è a lato quindi destro decide di mettere dentro anche un altro attaccante Valdez e la fermana a trazione anteriore si riversa in avanti dopo la mezz'ora nel tentativo di recuperare le sorti del match e al trentaduesimo trova il pari sugli sviluppi del corner di D'Angelo quando Gadda in scivolata sul secondo palo anticipa tutti e insacca le spalle di Giacchetta ora la fermana spinge mentre il Pineto che ha speso moltissimo soffre nel finale il ritorno degli ospiti che beffano i biancazzurri proprio in extremis scherzo del destino a punire forse oltremodo gli abruzzesi è il lancianese D'Angelo che servito da Cremona calcia direttamente in porta dalla destra sorprendendo Giacchetta e regalando i tre punti alla capolista molto probabilmente la sfera subisce anche una leggera deviazione sottoporta prima di entrare in rete festeggia così sotto il settore dei propri tifosi la sedicesima vittoria in 19 partite della fermana a cui manca ancora un punticino per la matematica ma che allunga ulteriormente sul Matelica ora a meno 11 una matematica che invece c'è per il Pineto che non riesce a completare la festa con un risultato positivo ma che conserva la categoria dopo una grande rimonta nel girone di ritorno è una prestazione oggi importante contro una grande squadra questo è il servizio di Roberta Di Sante sulla sconfitta per così dire indolore dei biancazzurri di Amaolo noi chiudiamo il discorso relativo al calcio anche perché vi ricordo che sono fermi i campionati regionali di eccellenza e promozione perché c'è il torneo delle regioni parliamo di basket un turno quello di serie A2 maschile tutt'altro che positivo per le due formazioni della nostra regione il Roseto senza grinta cede il passo al Ravenna terza sconfitta interna per gli Sharks troppo morbidi in avvio di gara Ravenna che si impone in terra abruzzese per 81 a 71 in basso le interviste Fulz non ha senso buttare via una stagione il capitano riconosce le ragioni della sconfitta ma è sicuro che la squadra ripartirà piuttosto di prima Proger Chieti a picco incubo play out a picco con una delle grandi del torneo il Bologna quinta sconfitta consecutiva e terz'ultimo posto con i Felsinei che si impongono per 91 a 71 vediamo proprio la classifica di questo girone il girone est di serie A2 perché vedete che il Roseto resta a 32 punti il Chieti è terz'ultimo in classifica Chieti 18 poi alle sue spalle ci sono il Forlì con 16 e Recanati con 14 Recanati ultimo ma capace di ottenere nelle ultime settimane risultati comunque importanti e vedete poi in testa la classifica proprio invece Virtus Bologna e Treviso con 40 Trieste Ravenna 38 Fortitudo Bologna l'altra Bolognese a 34 Furi al tappeto dopo le prime battute Coach Bartocce il capitano Sergio vinciamo le prossime due e poi vediamo dunque c'è fiducia nonostante le cinque sconfitte consecutive in casa Teatina siamo quasi in chiusura parliamo di basket di serie B con i risultati delle abruzzesi Amatori Pescara batte il Porto Sant'Elpido 79 a 52 Campli perde 83 a 53 in casa della capolista Montegranaro Ortona batte in casa Rimini 70 a 60 il Giulianova Regola Matera 90 a 65 perde il Teramo 77 a 67 in Sicilia sul parquet del Barcellona Pozzo di Gotto andiamo ancora avanti il Rugby l'Aquila due gare decisive per un posto in semifinale per il Gran Sasso terza sconfitta consecutiva a Noceto solo un punto e chiudiamo come vi dicevo con il Podismo a Pescara 1500 in 1500 per il Vivi Città inarrestabile Benjamin Adugna ecco il Trisal Vivi Città terzo successo di fila per l'Italo-Etiope tra le donne vince la capo di casa questa è la pagina dedicata al Vivi Città organizzato dalla WISPA Bruzzo Molise e a proposito di Vivi Città vi ricordo lo speciale di mercoledì sera alle 21 sulla nostra rete siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi il primo della settimana con Mattino 6 io ringrazio Gianni D'Areo in regia ringrazio voi per averci seguito vi rivolgo e vi rinnovo soprattutto l'appuntamento della prima edizione del nostro TG come sempre oggi alle 14 grazie per averci scelto e buon proseguimento di giornata grazie per averci grazie per averci